Le foto di alcuni anziani sono ancora appese agli armadietti nella casa di riposo di Nembro. Sono l'unica traccia che oggi rimane di diversi ospiti della struttura bergamasca. Prima dell'emergenza Covid, la Fondazione accoglieva 86 persone, 33 di loro non ce l'hanno fatta. 33 pazienti deceduti, morti senza che fosse effettuato un tampone. Tra febbraio e marzo, quando l'emergenza sembrava riguardare la provincia di Lodi, in questa RSA della Val Seriana, soltanto un anziano inviato in ospedale, ad Alzano Lombardo, per poi essere di nuovo riportato a Nembro. La struttura è stata chiusa ai familiari dal 24 febbraio e sono scattate le misure di sicurezza. Prima le mascherine e i guanti, poi i camici o gli occhiali. Il contagio era però ormai dilagato nella piccola comunità. Le richieste di sottoporre i casi sospetti al tampone non hanno avuto risposta.